Ho visto la morte in faccia. Erano sul punto di uccidermi, proprio davanti a me. Avevo i loro fucili puntati davanti a me e alle mie spalle. Stavo discutendo con loro, pensando a Che Guevara, che aveva detto che sarebbe morto in piedi. Mi sono detto, non ho intenzione di chiedere clemenza né pietà. Sto per morire in piedi. Mi sta chiedendo perché non mi hanno ucciso. Mi avevano mandati ad uccidermi, ma io sono un soldato. Ho passato metà della mia vita nelle forze armate e i soldati venezuelani, soprattutto i più giovani, mi considerano il loro capo.